Oggi sono venuti a trovarci in radio Lorenzo Marino e Stefano Marino, loro sono padre e figlio e sono qui per parlarci di una loro invenzione. Si tratta di una app che si chiama The Parking, ecco ma ce ne parlano meglio loro ed è una cosa molto molto interessante. Benvenuti a Radio Stereo 5. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, chi dei due vuole raccontarmi da cosa nasce questa idea e soprattutto di che cosa si tratta? Ma questa idea nasce da una notte insonne in cui a un certo punto mi è venuto in mente un sogno occhi aperti allo scopo di riordinare il mondo dei parcheggi. Ho detto ma perché uno quando prevede di rimuovere la propria macchina entro pochi minuti dal suo parcheggio non lo comunica, non ne rende dotta alla comunità? Lui lo dice, guardate che io fra tre minuti rimuovo la mia macchina che è in questa via, in quella posizione lì. Allora al mattino ne ho parlato con Stefano e ci siamo messi a ragionarci sopra, quindi da qui abbiamo affrontato tutti i problemi, quindi il doversi interfacciare con Google Maps, poter mappare la posizione della macchina e tutto ciò che ne consegue. Avendo diciamo come input principale la social cooperation che secondo noi è una cosa molto interessante, ovvero l'esempio che ci siamo fatti è ti è mai capitato che qualcuno quando vai a parcheggiare ti lasci il suo biglietto perché ha ancora del tempo? È una cosa che fa piacere tantissimo, è bello poterlo fare, oggi non esiste più nemmeno la comunità di vicinato, sarebbe un sogno praticamente riuscire oltre al fatto di ottimizzare la gestione dei parcheggi ad instaurare questo brevissimo rapporto fra le persone che si scambiano il parcheggio e si fanno ciao e si ringraziano. Sì, in effetti è una cosa piacevole, a me è capitato che mi abbiano ceduto il biglietto e ricordo che mi aveva fatto veramente piacere, oltre che stupito peraltro. A te invece Stefano voglio chiedere, ma a tuo avviso i cittadini cunesi sono pronti per questo tipo di condivisione? L'augurio è che lo siano, anche perché rispondere di no sarebbe come ammettere una scarsa fiducia al di là dei cunesi proprio nei confronti del genere umano e quindi sarebbe un atteggiamento, diciamo, non positivo in generale, non solo nell'ottica di questo nostro lavoro. Certo che abbiamo pensato anche a degli incentivi per far sì che tutto ciò funzioni e vada in porto. L'incentivo principale è stato quello di creare una sorta di classifica, nel senso che quando viene l'interscambio tra colui che parcheggia è colui che lascia il posto, si dà un voto, una valutazione a quello che lascia il posto. Questa valutazione che si basa sull'affidabilità chiaramente va a creare una classifica, una classifica di affidabilità che legge il parking, da qui il nome dell'applicazione, cioè il re del parcheggio. E non escludiamo, oltre a questa classifica che appunto dà anche un po' una logica di videogioco al tutto, che agli utenti secondo noi può piacere, anche di legare dei premi, in base alla posizione di questa classifica, per dare un ulteriore incentivo. Questo è ancora un aspetto in fase di lavorazione. Però sarebbe bello, come diceva mio papà, che tutto funzioni in un'ottica di cooperazione sociale e di mutuo soccorso e aiuto. Ecco invece dal punto di vista tecnico, come funziona sostanzialmente questa applicazione? Cosa bisogna fare e come bisogna farlo? Faccio un esempio pratico, vado dal commercialista. Trovo parcheggio in una via più prossima possibile al luogo in cui devo andare. Nel momento in cui parcheggio, attivo l'applicazione e mappo la mia posizione e me ne vado. Quando sto uscendo, sto stringendo la mano, salutando, eccetera, eccetera, tiro fuori il mio smartphone con l'applicazione e rendo prenotabile il mio posto auto, perché so che nel giro di due, tre, quattro minuti io preleverò la macchina dal parcheggio. Tizio invece deve andare nella stessa zona, attiva l'applicazione che avrà sul suo supporto per smartphone attaccato al parabrezza della macchina e vedrà su Google Maps il suo posizionamento con un cerchio con il raggio di 100 metri. Lui vedrà prenotabili i posti che saranno all'interno di questo cerchio. Questo perché per ridurre i tempi di azione, altrimenti diventerebbero troppo dilatati. Una volta individuato il posto che ho lasciato io, se gli interessa, lo tocca con il dito e gli appare il posizionamento della mia macchina, il modello, la marca, il colore e la targa, in maniera che mi può individuare con precisione e, fra virgolette, farmi la posta. La cosa bella è che abbiamo introdotto recentemente e che anch'io vedrò chi è quello che viene a prendere il mio posto. E essendo questo interscambio rapidissimo, fra virgolette, il sogno è che io lo aspetti. Eccolo lì che arriva, ciao, io tolgo la mia macchina e lui entra con la sua. E aspetto importante, il parcheggio è esclusivo. Cioè nel momento in cui io lo prenoto, sparisce dal display degli altri utenti. Cioè lo vedo solo più io e si attiva automaticamente un navigatore che mi porta alla posizione del parcheggio. Quindi anche in città che non conosco, magari non so come arrivare in questo parcheggio, anche se nel raggio di 100 metri, io riesco a raggiungerlo e lo vedo solo più io. Ecco, un altro aspetto importante è che quando io mappo la mia macchina dico che tipo di parcheggio è, se è blu a pagamento, se è bianco o se è giallo per i residenti. Bene, io voglio proprio ringraziare Lorenzo e Stefano Marino, come abbiamo detto prima, padre e figlio per essere stati oggi con noi in radio a raccontarci questa bella idea che hanno avuto. Grazie e alla prossima. Grazie. Grazie. Alla prossima.